Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video, io sono Zetacloud e bentrovati in un nuovo episodio riguardante le 10 curiosità su un personaggio famoso Stiamo parlando di Conor McGregor, anche detto The Notorious Come sapete quest'ultimo si è reso famoso per il personaggio che è riuscito a creare non solo nel mondo delle UFC ma nel mondo mondiale e internazionale Anche dei social media e dei social in generale Infatti Conor ha trasformato, ha plasmato la sua figura in un vero e proprio personaggio che sputa soldi da ogni poro Sappiamo che Conor ha un carattere molto molto aperto, molto sfacciato e questo appunto lo caratterizza soprattutto nella parte precedente ai combattimenti Come sapete infatti tutto ciò che è successo subito dopo l'ultimo combattimento con Khabib è stato frutto proprio delle sue continue insulti, delle sue continue dicerie sulla famiglia, sul padre, sulla religione e quant'altro Quindi tutto ciò fa sì che il personaggio di Conor possa essere apprezzato come anche disprezzato Oggi siamo qui per analizzare la sua vita e spulciare su quelle che possono essere le 10 curiosità su Conor McGregor Conor Anthony McGregor nasce a Dublino il 14 luglio del 1988 da Tony e Margaret McGregor e a due sorelle Erin e a Oife Tuttavia il giovane Conor non ebbe subito la passione verso la lotta Quando cominciò a avere questa spia, questo amore verso la lotta ebbe appunto un grandissimo scontro con il padre e con la madre Che fondamentalmente non volevano che lui intraprendesse una strada così pericolosa Dato che ovviamente non subito si diventa famosi ma si deve prendere di santa ragione Quindi Tony, il padre, lo picchiava molto spesso dice Conor Però poi lo faceva di nascosto, andava a combattere di nascosto fino a quando appunto non hanno ceduto e hanno fatto bene perché infatti Conor adesso è stratico Lo sapevate che anche il padre di Conor è testimone di una bevanda energetica? Si chiama Lucosate Zero Mentre il figlio appunto Conor è testimone del nuovo whisky che ha creato lui chiamato appunto Denotorius Da bambino McGregor amava alla follia il calcio come qualsiasi bimbo che nasca appunto nella penisola della Gran Bretagna quindi compresa anche l'Irlanda Sport in cui si racconta fosse molto più che promettente quindi una giovane promessa E il suo sogno era quello di diventare un giorno abbastanza bravo da poter giocare nella sua squadra del cuore Che non era appunto una squadra irlandese bensì una squadra inglese stiamo parlando del Manchester United La sua prima e ultima squadra di calcio fu la Yellowstone Celtic Una squadra dilettantistica infatti se la cercate su Wikipedia neanche spunto Prima di entrare nel mondo delle arti marziali miste Conor McGregor ha lavorato per un anno come apprendista idraulico Questo avveniva tra il 2006 e il 2007 Quando il fighter irlandese non era ancora ventenne e cercava un'occupazione stabile Come lui stesso ha raccontato il lavoro proprio non faceva per lui Per questo pur con una situazione economica tutt'altro che facile capì che per inseguire i propri sogni doveva rischiare E quindi lasciò l'azienda per dedicarsi ancora di più alla palestra Conor è riuscito a perfezionare il suo stile di combattimento grazie alle numerose sessioni di allenamento Chi ha sostenuto con l'allenatore israeliano Ido Portal Guardatelo qui in foto Ideatore del Movement Training Che è una particolare tecnica di preparazione che prevede l'utilizzo di bastoni Camminati sulla corda e altri esercizi mirati a trovare sempre un perfetto equilibrio Qualità fondamentale in una disciplina dove una sola caduta può rivelarsi fatale In difficoltà nel trovare un'occupazione stabile proveniente da una famiglia a poco ambiente Il giovane Conor a Dublino alternava lavori saltuari al sussidio di disoccupazione Ebbene si ragazzi, usufruiva proprio di questo servizio La settimana precedente al suo primo incontro nel mondo delle arti marziali miste Il fighter irlandese ha raccontato di aver ricevuto un assegno pari a 235 sterline Mentre i primi veri soldi poi sono arrivati soltanto 5 anni dopo l'esordio come professionista Quindi diciamo che anche costruendo, iniziando la sua carriera da combattente I veri soldi hanno trattato ad arrivare Il suo primo incontro da professionista avviene nel 2008 con la promozione della competizione dell'arnese Cage of the Truth Ottenendo una vittoria per capo tecnico alla seconda ripresa contro Gary Morris Se voi andate a vedere il documentario che c'è appunto su Youtube C'è proprio un documentario che ha pagamento Scaricate quella... cioè cliccate Andate a pagare ragazzi e vedrete questo video Che fondamentalmente dimostra come Conor fosse appunto ai tempi molto povero E diceva addirittura che prima di questo combattimento Non aveva neanche i soldi per comprarsi il pantaloncino Il pantalone infatti che vedete gli è stato prestato Infatti è un po' grande per la sua taglia Conor è un lettatore cauto ma allo stesso tempo aggressivo Chiama a prendere l'iniziativa e colpire con estrema rapidità Non è un caso che alcuni dei suoi match si siano conclusi in pochissimo tempo Sono infatti da segnalare anche le vittorie all'esordio da professionista Contro il connazionale appunto Gary Morris Fece durare l'incontro solo 8 secondi Poi ci fu quello contro l'inglese Mike Wood 16 secondi E soprattutto come voi ben sapete Quella ottenuta nel dicembre 2015 Contro l'allora attuale campione del mondo dell'UFC Cioè stiamo parlando del brasiliano José Aldo Che era rimasto imbattuto per ben 10 anni Mentre Conor riuscì a batterlo in 13 secondi La vittoria più rapida in assoluto però risale al 16 aprile 2011 Quando durante l'evento Immortal FC 4 McGregor al suo nono incontro da professionista Stendo un altro fighter irlandese chiamato Patrick Doherty In qualcosa come 3 secondi ragazzi Con un sinistro diretto alla testa Prima dell'incontro con Khabib L'irlandese non si è comportato proprio da signore Ad aprile infatti Scar avventò come te qui in foto Una transenna verso il pullman in cui Vieno e Khabib e il suo team Subito dopo seguì una caralata di conferenze stampa In cui appunto insultava pesantemente il russo Suo padre, la religione e quant'altro Conor dopo essere stato sconfitto da Khabib Venne preso di mira dagli allenatori del russo I quali lo colpirono alle spalle più di una volta Tutto questo avveniva mentre Nurmagomedov Invece se la prendeva con il team di McGregor La fine di questa lista funambolica Conor però deciderà di non fare causa ai russi E quindi non avere nessun risarcimento Una cosa però Conor l'ha detta Con una foto su Instagram I will back Quindi ragazzi aspettiamoci a breve Un ritorno di Conor McGregor sull'ottacolo Ebbene ragazzi il video si conclude qui Spero vivamente che vi piaccia questo format Che vi siano piaciute appunto queste curiosità Ditemi se sapevate tutto O se effettivamente qualcosa non la sapevate Prima di lasciarvi però volevo appunto Commettare un po' la situazione Ovviamente Conor è un ragazzo Comunque di soli 30 anni Che ha cercato di plasmare appunto Un personaggio fondato appunto Sulla spavalderia ecco Quello che noi non dobbiamo dimenticarci Che tutto quello che noi vediamo in tv È uno spettacolo E in quanto tale ci sono molti soldi dietro Molta finzione Lo stesso Dana White Che è il presidente insomma della UFC Molto spesso ci marcia su queste cose Per ottenere più visibilità Ottenere più pubblicità dai media E quindi ottenere più denaro Quindi ragazzi Non prendete tutto quello che è accaduto Nella rissa come qualcosa di assurdo Perché non è la prima volta Se andate a spulciare Nel mondo anche del pugilato Anni fa Tempi di Tyson Ali Queste cose accadevano Quasi ogni giorno Ovviamente Vederlo nel 2018 Fa molto più effetto Tuttavia ragazzi Per me È tutta una cosa Che gira intorno ai soldi Ci guadagnano tutti lì Chi perde Chi vince C'è sempre un guadagno dietro Ovviamente Ogni comportamento di questo Deve essere condannato Però In questi determinati tipi di ambiti Sappiamo Che lo fanno proprio apposta Vi invito comunque Come al solito A iscrivervi al canale Commentare qui sotto Ragazzi Adesso è veramente tutto Ciao Da ZCloud